Esercizio, un asteroide di forma sferica di 2 km di diametro e questa densità si trova a 20 raggi terrestri di distanza dal centro della Terra viaggia a 1000 m al secondo proprio diretto verso il centro della Terra due domande, l'energia cinetica all'impatto contro la superficie terrestre e la velocità d'impatto la seconda domanda è banale perché una volta calcolata l'energia cinetica basterà fare la formula inversa dell'energia cinetica per calcolare la velocità d'impatto quindi risponderemo soltanto alla prima domanda calcoleremo però anche il lavoro della forza di gravità questa è la situazione, l'asteroide in A, la forza di gravità che lo attrae verso la Terra durante la caduta e quindi già capiamo che la forza di gravità fa lavoro motore sull'asteroide perché l'asteroide si sposta verso destra e la forza di gravità pure lo tira verso destra quindi perfetto lavoro motore e qui c'è la solita tabella che riporta le posizioni A e B e riporta le varie forme di energia l'energia cinetica dell'asteroide e la sua energia potenziale gravitazionale attenzione da calcolarsi con questa formula meno gmm su R su R qui mi c'era scappato un quadrato che non c'è meno gmm su R perché l'asteroide viaggia lontano dalla superficie terrestre non possiamo usare l'approssimazione MGH per l'energia potenziale gravitazionale e infine l'ultima riga è l'energia meccanica la somma di quella cinetica è potenziale l'unità di misura è 10 alla 19 J perché vedremo tra poco con i calcoli che quello è l'ordine di grandezza delle energie è importante notare che non c'è l'attrito in questo problema dal momento che l'asteroide viaggia nello spazio vuoto anche l'atmosfera terrestre è trascurabile perché è un sottilissimo velo di pochi chilometri sopra la superficie e quindi si mantiene costante l'energia meccanica sappiamo che invece quando c'è l'attrito cioè le forze dissipative parte o tutta dell'energia meccanica si trasforma in calore cioè energia termica è per questo motivo che si vede già nell'ultima riga della tabella l'energia meccanica mantenersi costante per eseguire i calcoli dell'energia cinetica e dell'energia gravitazionale ci servono questi dati la costante di gravitazione universale di Newton la massa della Terra che approssimativamente è questo valore la massa dell'asteroide questa la dobbiamo calcolare a parte perché dell'asteroide non ci viene data direttamente ma ci viene dato il suo raggio e la sua densità dopo vediamo come calcolare la massa dell'asteroide poi abbiamo la distanza iniziale dell'asteroide dal centro della Terra 20 raggi terrestri e la distanza finale dal centro della Terra un raggio terrestre dove il raggio della Terra si può approssimare con 6400 km i 20 raggi terrestri iniziali sono la distanza tra A e O un raggio terrestre finale è la distanza tra B e O tipico errore degli studenti prendono come distanza finale 0 anziché un raggio terrestre perché confondono la distanza R che si trova nella formula dell'energia potenziale gravitazionale con la quota la quota è 0 H H è 0 ma nella formula dell'energia potenziale gravitazionale non c'è la quota c'è la distanza dal centro quindi un raggio terrestre alla fine ora vediamo come si calcola la massa dell'asteroide abbiamo la densità e il volume la densità è massa fratto volume formula inversa la massa è densità per volume la densità è nota il volume lo calcolo perché è il volume di una sfera di raggio 1 km il testo ci diceva che il diametro era 2 km il diametro dell'asteroide quindi con i calcoli viene questo volume dell'asteroide che vado a sostituire al posto di questa formula al posto di V quindi densità per volume e questa è la massa dell'asteroide dell'ordine di 10 alla 13 kg che è molto meno della massa della Terra la massa della Terra è l'ordine 10 alla 25 kg quindi ci sono 12 ordini di grandezza 10 alla 13 10 alla 25 cioè c'è una differenza di 1000 miliardi cioè la massa della Terra è 1000 miliardi di più dell'asteroide quindi non dobbiamo immaginare un corpo di grandi dimensioni che cade sulla Terra del resto sappiamo che il suo diametro è solo 2 km ora che abbiamo la massa dell'asteroide possiamo calcolare l'energia cinetica dell'asteroide all'inizio sappiamo infatti la velocità e quindi con la formula dell'energia cinetica troviamo 0,94 per 10 alla 19 J e quindi inseriamo in questa casella 0,94 inoltre noi conosciamo le distanze dell'asteroide dal centro della Terra all'inizio e alla fine abbiamo detto 20 raggi terrestri un raggio terrestre andando a sostituire questi 20 raggi terrestri nella formula dell'energia potenziale gravitazionale troviamo meno 5,89 per 10 alla 19 J e questo valore lo inseriamo qui energia potenziale gravitazionale dell'asteroide all'inizio e sostituendo nella stessa formula la distanza finale RB di un solo raggio terrestre otteniamo l'energia potenziale gravitazionale alla fine cioè in B che è questo valore molto grande in negativo quindi circa meno 6 è diventato meno 118 per 10 alla 19 J e questo è logico che l'energia potenziale gravitazionale dell'asteroide è diminuita durante l'avvicinamento perché se ricordiamo durante l'avvicinamento la funzione energia potenziale gravitazionale funzione della distanza dal centro della Terra è un ramo di perbole che è nel quadrante negativo cioè sotto l'asse orizzontale e quindi mentre l'asteroide si avvicina la sua energia potenziale gravitazionale scende scende da questo valore UGA quindi da circa meno 6 valore già negativo meno 6 per 10 alla 19 J scende a un valore più basso meno 118 circa quindi l'asteroide perde energia potenziale gravitazionale è chiaro che non essendoci l'attrito questa energia potenziale gravitazionale persa non va persa nel nulla diventa energia cinetica e infatti l'asteroide acquista velocità e la acquista si capisce perché è attratto dalla forza di gravità della terra quindi la forza di gravità su di lui fa lavoro motore questo lavoro motore accelera l'asteroide quindi l'asteroide acquista velocità acquista energia cinetica in quantità pari all'energia potenziale gravitazionale persa completiamo la tabella sommando l'energia cinetica e quella gravitazionale per ottenere l'energia meccanica che si conserva qui c'è la nostra incognita l'energia cinetica alla fine in B questo valore è il valore adatto tale che sommato a quest'altro fa meno 4,95 quindi questo valore è 112,9 lo abbiamo ottenuto prendendo l'energia meccanica e sottraendo l'energia potenziale gravitazionale quindi 112,9 per 10 alle 19 J è l'energia cinetica finale in pratica abbiamo eseguito questo procedimento cioè l'energia meccanica in A e in B è uguale perché non c'è l'attrito ma l'energia meccanica in A è la somma di questi due quindi l'energia cinetica più quella gravitazionale l'energia meccanica in B invece è la somma di questi altri due l'energia cinetica e gravitazionale in B questa è un'equazione con 4 termini di cui 1 incognito e 3 dati mi ricavo il termine incognito l'energia cinetica in B prendendo la somma di questi due che è l'energia meccanica cioè è questo valore qua per 10 alle 19 J e sottraendo l'energia gravitazionale in B che porto di là col segno meno quindi l'energia cinetica in B è questo l'energia meccanica meno questo l'energia gravitazionale in B è il calcolo di prima e questo è il risultato è il risultato